60 secondi per spiegarti i componenti del fotovoltaico. Di base il fotovoltaico è un sistema composto da pannelli fotovoltaici che convertono l'irraggiamento solare in energia elettrica. Quando i pannelli sono esposti alla luce solare, producono energia. Questa viene erogata in corrente continua, ma i nostri elettrodomestici funzionano con la corrente alternata. Ecco perché i pannelli vengono collegati ad un inverter che trasforma la corrente continua in corrente alternata, così possiamo utilizzare l'energia senza dover cambiare tutto l'impianto esistente. L'energia prodotta e quella immessa in rete verranno conteggiate rispettivamente dal contatore di produzione e dal contatore di emissione o scambio. Se poi vogliamo aggiungere accessori, possiamo ottimizzare la produzione dei pannelli montando degli ottimizzatori e se volete conservare parte dell'energia prodotta quando non la usate, potete collegare al fotovoltaico un sistema di accumulo. Se volete approfondimenti vi consiglio di guardare la playlist fotovoltaico di qualità sul canale, se no al prossimo short.